L'ordinanza emessa dall'Ufficio Mobilità del Comune è chiara. Via Macheda verrà pedonalizzata definitivamente, aperta solo per tre ore al giorno, dalle 7 del mattino alle 10. Questo è l'orario previsto nei giorni feriali, nel tratto compreso tra Via Cavour e Piazza Villena, mentre nei giorni festivi la chiusura al traffico veicolare sarà per tutto il giorno. L'accesso sarà consentito solamente ai mezzi autorizzati, come le auto dei residenti, solo se muniti di pass ZTL, le biciclette, i mezzi privati destinati al trasporto e alla distribuzione dei medicinali urgenti diretti alle farmacie della zona, i mezzi diretti verso le strutture alberghiere, quelli destinati al carico o allo scarico di merci. Per tutte le altre, invece, sarà vietata la circolazione. L'app edonalizzazione di Via Macheda era partita in via sperimentale, adesso invece si appresta a continuare in via definitiva, anche perché, come fanno sapere dal Comune, supportata tra l'altro dall'apprezzamento dei cittadini palermitani e dall'evidente risveglio commerciale dell'area. L'ordinanza prevede anche la proroga della chiusura di piazza per anni, dove si tiene il mercato delle pulci, fino al 5 settembre. Adesso il Comune sta lavorando da alcuni provvedimenti che riguardano il Cassaro Alto. Anche questa zona, la parte di Corso Vittorio Emanuele, compresa fra Via Bonello e Quattrocanti, verrà pedonalizzata e quindi chiusa al traffico. Questa l'idea del Comune, che vuole ridurre sempre di più le possibilità di transito per i veicoli a motore.